Manca poco a quella che di fatto è la prima manifestazione automobilistica in questo 2022. Il Val Teberina Motorsport torna all'antico, ripropone il rally Terra-Valle del Tevere che quest'anno arricchisce la competizione con un'altra prova speciale. L'iniziativa è stata presentata nello splendido scenario di Villa Gennaioli a Dagnari, soddisfatto Davide Nicchi che fa parte del comitato organizzatore. Sì, siamo pronti. Abbiamo chiuso ieri le iscrizioni e con soddisfazione possiamo annunciare che anche quest'anno ci saranno oltre 100 equipaggi che parteciperanno alla nostra manifestazione, equipaggi che vengono da ogni parte d'Italia, d'Europa e anche extraeuropei. Quindi siamo soddisfatti e contenti del lavoro che abbiamo svolto. C'è una prova in più? Sì, quest'anno c'è una prova in più. Sarà una prova nuova, inedita, che verrà corsa il sabato pomeriggio prima del riordino notturno che verrà fatto ad Anghiari. È una prova che si svolgerà nel territorio di Anghiari. È molto tecnica, molto bella e spettacolare. Un premio che ricorda anche la memoria dei Pucci Grossi, un grande personaggio di questo sport. Assolutamente sì. Quest'anno proponiamo per questa manifestazione il premio Pucci Grossi che abbiamo istituito per il miglior Under 28, quindi il miglior giovane che si classificherà. Riceverà il premio in onore di Pucci Grossi, che è stato un forte pilota pluricampione italiano terra e che era amico di Valtiberina Motorsport. Quindi siamo orgogliosi di poter offrire questo premio al miglior giovane. Grazie. 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 Grazie.